Da giovedì partiranno le vaccinazioni ai più piccoli, alla fascia tra i 5 e gli 11 anni, che in Abruzzo coinvolge 75.954 bambini. Nell'Aquilano sono 16.840, di cui 4.148 nel capoluogo. Il vaccino che si farà è il Pfizer, ma la dose è un terzo di quella somministrata agli adulti, con la seconda dose a tre settimane dalla prima. La piattaforma per le prenotazioni sarà attiva dal 16 dicembre, funzionerà come per le altre, ma sarà possibile prenotare anche attraverso il numero verde 816 9326, che va a finire comunque sullo slot delle poste, ma con le prenotazioni caricate direttamente dalla ASL. La ASL una nel piano dell'organizzazione dal punto di vista logistico, ma è tutto già deciso. Ci saranno dei percorsi separati per i bambini, che non andranno a toccare quelli dei grandi. Dal 16 dicembre in poi, sull'Aquila, per i bambini, sarà riservato il solo hub di San Vittorino, tre giorni a settimana, dalle 14 alle 18, come fascia oraria. Per i bambini, dagli 11 ai 5 anni, abbiamo riservato dei percorsi preferenziali. Nell'ambulatorio di San Vittorino sarà possibile prenotarsi dal 16 dicembre, nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato, dalle 14 alle 18. Ci saranno degli ambulatori, che chiaramente saranno dedicati esclusivamente ai bambini, con personale dedicato. E stiamo coinvolgendo anche i pediatri, che ci aiuteranno sicuramente nell'esecuzione di queste vaccinazioni. Per il momento, quindi, le vaccinazioni ai bambini non saranno fatte nel centro di Bazzano. Stessi orari e stessi giorni ad Avezzano, per Sulmona, Pescino e Tagliacozzo il mercoledì e il venerdì. Probabilmente a Castella di Sangro si vaccineranno i bambini dal lunedì e il venerdì. Per il dottore Enrico Gianzante la vaccinazione dei più piccoli è molto ma molto importante. Saranno coinvolti i pediatri di base. All'inizio la Asla non attende tantissime richieste, c'è ancora molto timore al riguardo. Ma il dottore è sicuro che grazie all'azione della Asla e dei pediatri di base si capirà l'effettiva importanza dei vaccini ai bambini. All'inizio è possibile che ci siano delle titubanze, ma siamo sicuri che nel brevissimo periodo i genitori, che verranno convinti dalle nostre azioni, dei pediatri, dei medici di medicina generale, convinti con quelle che sono nozioni scientifiche, a vaccinare i propri figli. Cosa che è fondamentale perché, come avete ben visto, si sta spostando quella che è l'età della infezione da SARS-CoV-2 e si sta spostando verso l'età più piccole, soprattutto l'età delle scuole primarie e l'età degli asili. E quindi noi dobbiamo assolutamente evitare questo.